Le accuse della CGL che minacciava di andare anche oltre la denuncia verbale per i nodi molti medici di base alla registrazione sul portale della regione campania dei pazienti estremamente fragili per l'adesione alla campagna vaccinale anti-covid. Accusi a cui le associazioni della categoria hanno risposto con un documento unitario criticando le modalità con cui la parte pubblica, la regione campania, intente coinvolgere i medici di famiglia nell'organizzazione della campagna vaccinale di massa anti-covid. Si rischia, scrivono, in questo modo, di bloccare l'attività degli studi dei medici di medicina generale a causa di una forzatura interpretativa del recento accordo regionale. Accordo regionale che prevede che i pazienti fragili in carico ai medici di medicina generale siano vaccinate e registrati con le loro schede anamnestiche sul portale della regione campania. Si tratta di pazienti impossibilitate a deambulare o con gravi patologie. Per la registrazione di ogni paziente, scrivono sempre le associazioni, occorre un certo lasso di tempo. Per questo non è ipotizzabile che tutti i pazienti possono arrivare fino a 1500 di un medico di famiglia debbano essere registrati con la loro scheda. Questo comporterebbe il blocco degli studi dei medici di famiglia di tutta la regione. La fase organizzativa della campagna vaccinale, scrivono sempre le associazioni dei medici di medicina generale, ha bisogno di un'accelerazione alla luce delle disfunzioni di questi giorni. Questo scatto può avvenire solo se le strutture pubbliche, le ASL, i centri vaccinali, con il proprio personale amministrativo, infermieristico, medico, diventino i principali protagonisti dell'iniziativa. I medici di medicina generale, come sempre, daranno il loro contributo. Non chiediamo però a loro il blocco delle proprie attività ambulatoriali perché ne va di mezzo la salute di tutti i cittadini campani, conclude la nota.